Non poteva mancare tutta la gioia dei tifosi presenti al Palafloro di Bari, erano in 6.000, andiamo ad ascoltarli. Chi stai aspettando dei tuoi idoli? Daniele Lavia. Una grande Italia oggi? Bellissimi, stupendi, bravi, spero sempre meglio. Da dove venite per seguire l'Italvolley? Da Bari, da Bari. Una grande fortuna vedere tanti campioni così da vicino. Beh, certo, certo, certo. Specialmente lui, il numero uno. L'atleta preferito? Decisamente Micheletto che ha dominato questo match. Molto bravo, nei suoi punti è imbattuta, schiacciate, molto bello. Forza Italia sempre, bellissimo questo pubblico per Bari. E soprattutto, dopo il calcio, almeno un altro sport che fa entusiasmare i baresi e soprattutto riempie i palazzetti. Prima volta al Palafloro? Sì, sì, sì. Ci ritornerai? Spero di sì, sono venuta con mio padre. Meravigliosa. Non mi sono mai persa una partita. Io ho già prenotato per i quarti. E niente, è stata una partita stupenda, soprattutto per il fatto che l'Italia è una squadra molto completa ed è stato molto facile anche vincere la partita. È stata molto convincente e è sempre emozionante guardare l'Italia dal vivo.